Sindaco, questa mattina ancora una donna investita, se li propone il tema della sicurezza sulle strade, più strade a 30 all'ora, quali sono le situazioni? Sono molto scorso da questa vicenda perché la dinamica è una dinamica violenta, cruenta e questa madre che probabilmente riesce a sondare i bambini, potrebbe portare la carrozzina scusi, doppia. Stanno facendo delle indagini, quindi non voglio neanche anticipare ciò che può emergere da queste indagini. Il mezzo era quello che aveva l'indicazione dell'angolo cieco, probabilmente non aveva l'apparato, io credo che soprattutto bisogna ralentare su quello, cioè su un apparato adeguato. Rallentare ci sta, ma stiamo parlando di strade che magari tecnicamente non sarebbero neanche la 30 all'ora, ma poi in ogni caso lì non era una velocità su un rettilineo, era un mezzo che stava voltando, quindi non c'è purtroppo una sola regola. Certo che serve una grande attenzione perché le state sono sempre più popolari. Grazie. 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 Grazie.